Ferre a quanto pare c'è un nuovo ricercato nel villaggio Oh no Steph Ma io sono iniziata ad andare un po' in giro senza di te e ho notato un particolare davvero strano Ok, guarda questa cesta Guarda questa cesta, cioè ci sono tre blocchi messi così E cosa ci dovrebbero indicare Steph? Non ho idea Ferre, la sto osservando da un po' di tempo, credo che dovrebbe essere un indizio Ma non riesco a capire che cosa dovrebbe essere L'unica cosa che ti posso dire è che c'è molta più gente della scorsa volta E trovare un criminale coi mezzo sarà un delirio E ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E sono Steph che si giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui dovremmo risolvere un altro mistero C'è un nuovo ricercato quindi Steph Sì esattamente Ferre mi hanno detto che questo qua è ancora più pericoloso dell'altro Beh perché la scorsa volta è stato anche facile dai comunque ce l'abbiamo fatta È stato un po' faticoso Ma no dagli indizi comunque ci hanno fatto capire quasi subito di chi si trattasse Quindi già vedendo quella cesta suppongo che stavolta non sarà così semplice Allora io sai cosa ho pensato? Per adesso mi metto nell'inventario questi tre blocchi di cobblestone E li tengo nello stesso identico modo in cui erano messi Quindi li tengo così in verticale Ok magari servono a fare una magia Steph, un rituale Ma che ne so Ferre sinceramente non ho idea Scusa se è pieno di soldati sto notando adesso che ci sono tantissimi soldati E Ferre secondo te perché ci sono i soldati e le bodyguard? E perché non se lo vedono loro Steph? Perché non riescono a trovarlo Perché ci facciamo noi qui di nuovo? Loro sono forti a combattere ma... Perché ci devono disturbare sempre? Quasi Natale andiamoci in vacanza Sono forti E poi dove andiamo adesso? A sciare, a fare la settimana bianca Andiamo? Ferre non ci andiamo a fare la settimana bianca Dobbiamo registrare video, fare gli investigatori e tante altre cose In ogni caso vieni con me Ti stavo dicendo che i soldati sono forti Cioè sono armati eccetera eccetera Ma se non capiscono chi è, non capiscono chi è Cosa dovrebbero sparare tutto il villaggio E forse sono un po' tonti Steph No non sono tonti È il ricercato che si traveste bene Allora qua c'è un'altra cesta Questa volta... Ah ok ho capito adesso sì Sì mi è tutto chiaro Si sta dicendo che il ricercato in realtà è un pezzo di cobblestone Guarda il mio schermo Con delle lettere Vero? Aspetta qual è la seconda? Perché per essere una M dovrebbe mancare quello di sopra Questa è una... Ah è una A È una A? È scritto un po' ma... Non lo so, non lo so se è una M Ferre non lo so Seconda che... Questa è una I Su questo andiamo sul sicuro Comunque credo che siano delle lettere fatte con i blocchi di cobblestone Non ne sono ancora sicuro Vabbè è la forma... È la forma che più dice qualcosa Esatto Perché non lo so Guarda Fede è tornato il pool party Il pool party Andiamo andiamo un pochettino Sì bisogna tornare Non so perché questi qua non vogliono andarsene a buttarsi in acqua Ma vabbè Una domanda No sì Perché ci sono così tanti dipendenti del McDonald in giro? Vieni qua Cioè allora capisco il bodyguard Capisco le guardie Capisco i dottori nel caso che qualcuno si ferisse Eh Nella ricerca del... Ok Del bandito di come lo vogliamo chiaro Mi fighi come mangiano tutti? McDonald's è ovvio È la soluzione a tutti i problemi Questa è una ridicola Puoi venire qua un attimo? Allora Dove sei? Qui Ti ho perso in mezzo al pool party È perché c'è un soldato semplice davanti che mi nasconde Fede mi vedi? No no non ti vedo Sto saltando Girati intorno Aiuto se ti ho perso Mi stanno rapendo Girati Dove? Dove? Ah ecco Perfetto Ok Guarda qua sotto Vedi? Ma dai pure sott'acqua Comunque ti dicevo che il McDonald's è per forza l'operatura Aspetta Questa è una E A me sembra una C Ho un po' di problemi con le lettere Aspetta No perché la C non avrebbe questo credo Ok Credo no? Ha ragione? Non lo so Ma che ne so? Sono lettere bruttissime Sto spostando un po' perché non ho molto spazio nell'inventario Quindi Ta 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 si credo che sia una E Ok Kai 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 Quello che forma la A No Ah questa è una A E ai Al massimo no? Perché toccai? Ah perché è vero che è una E Ma Fere ma No Fere non fa schifo Fere fa schifo Non ce la possiamo fare Fere oggi non mi potrà dare una mano A scoprire chi è il colpevole Allora Steph non ha senso in nessun modo unire quelle lettere Non so che dirvi Beh perché probabilmente ci mancano ancora delle lettere Fere Cosa ti devo dire? Ne ho visto un'altra Vieni 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 qua 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 Ti ho perso di nuovo accidenti a te Steph Una U Fere dove sei? Cioè sono tutte le vocali Steph Fere dove sei finita? Non lo so e non mi interessa Sono qui in mezzo Non lo so Ci rivedremo tra un po' Steph Ok prenditi questa cobblestone e fai la stessa identica forma tenendola nell'inventario Sì lo capito lo capito Ok Scusa ma quindi siamo a A e U Allora a me sembra è Credo A I U U E A I U U Non lo so Why è? Questa è la parola che stiamo cercando Non ho idea Non ho idea È impossibile È una M e una A È una M e una A Devi capire Devi capire No però forse se fosse un M non avrebbe quello centrale di sopra Capisci? Questo No perché così sarebbe un H Accidenti può essere un A Quindi vuol dire che questa qua e questa qua possono essere sia un M che un A perché è l'unico modo di fare queste lettere credo Perché non c'è molto spazio all'interno della testa per spaziare con le lettere Ok ok la puoi prendere tu? Eh sì ti ho perso di nuovo Anzi vabbè facciamo così Lo metto sopra l'alto così sappiamo che abbiamo Due A Due M Una A Una M Fai mettiamola così Sta diventando davvero complicato scoprire l'indizio eh Sto letteralmente impazzendo Erano meglio i cartelli della scorsa volta È un decisamente più semplice Allora qua da qualche parte vedi qualcosa perché c'è un sacco di gente Secondo me c'è una cesta nascosta qui eh Ho trovato solo un buco e mi ci sono caduta dentro No per questo è chiaramente una R Giusto? Allora solo tu riesci a vederci delle lettere Steph ti dico la verità Era una R No io non Allora Allora Abbiamo tante le lettere Dimmi quali hai tu Una U ed una R Una che definiamo R Ok Io ho una E Una A Ho una M E una I No 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 Ancora non Secondo me Ci mancano ancora almeno una o due lettere per capirci qualcosa Aspetta Fede ma in effetti la M è così Ne ho appena trovata una M Quindi queste qua sono due A Quindi allora abbiamo Aspetta Steph Perché stiamo finendo lo spazio nell'inventario Quindi direi che è arrivato il momento di scriverlo Guardo il blocnotesco i gattini Che ci servirà sicuramente per risolvere questo Ok Ah ridimi Allora ti dico tutte le lettere che abbiamo Una M Ok Una E E Ok Due A Due A Una I I Una R E poi l'altro ultimo è no U U Ok Ok Ti viene in mente qualche parola Sto provando a guardare No niente 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 Secondo me Un'altra cesta È vuota L'avevo già presa Porca miseria Comunque Ne ho trovato una dentro una casa Quindi devi iniziare a controllare anche tutte le case Ok Inizio a guardare anche quelle Secondo me ci siamo quasi Fede Perché abbiamo trovato un sacco di lettere Una parola dovrebbe già uscirci così Ma l'ultima era fuori ecco perché non la trovavo Che dici c'è Allora questa è chiaramente una G Perché è talmente brutta che può essere solo una G sta roba Giusto? Sì Ok Ok Allora Mi dia quel foglio Secondo me abbiamo abbastanza parole per scoprire almeno C'è abbastanza lettere per scoprire almeno una parola Aspetta Ce l'hai fatta? Lo sto strappando Ok Ok Allora Quindi consulini Riguardate queste qua sono C'è troppa luce C'è troppa luce Consulini o potete ve le rilenco Abbiamo M E A A I R U N M G Ok Allora 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 Che parola potrebbe uscire? Allora Gira Gira Gira? È perché magari deve dire due cose Tipo gira lì Gira là Ah gira No forse no Menu No no Aspetta fammi rivedere Il McDonald Dobbiamo scoprire il menu Del McDonald Eh qualcosa del genere È molto probabile Oppure Mira Magari devi mirare per guardare da qualche parte Eh Mi togli un dubbio? Eh C'è la parola nome? Esce? No No Non abbiamo una O Non abbiamo una O No assolutamente Ok No niente Speravo fosse quello ma niente Ho appena trovato una O Fammi segnare anche l'AO Fammi segnare anche l'AO Allora Secondo me Uno dei due indizi è nome Allora Quindi proviamo Proviamo a toglierle Le cerchiamo per dire che le abbiamo usate Ok Vai 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 M O M E Nome E rimane una G Una U R I Due A Che ancora non abbiamo capito se sono A o M Ok Perché anche quello è un po' difficile E poi un'altra M Perché anche lì non eravamo molto sicuri di che lettera fosse Cioè abbiamo Quante M scusami Due M Una M e due A Ok Però anche le A potrebbero essere un A Sì va bene Ok Ok quello certo Però una M l'abbiamo usata per nome Quindi mancano o due A o due M Ah no scusa qua era una H Ho sbagliato io Quindi sì Una H o una N Ok Esatto Ok Che però abbiamo usato per nome E quindi dobbiamo togliere Esatto No avevo scritto male e mi sono confusa Ok Quindi nome e rimangono Sì Giù Credo di aver trovato l'ultima lettera Ma ti prego Stef Che Credo che sia una D Quindi guardia Esce guardia Guardia Sì 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 Se è una D sì È sicura? No no Allora è per forza una D Ok allora è per forza una D Perché avevo il dubbio che fosse una D Guardia Sì guardia esce Aspetta Quindi nome guardia Guardia nome Non lo so È facile Eh Dobbiamo cercare tra le guardie Qualcosa che ha a che fare col nome No? Ok Ok Ma guardia è inteso come bodyguard Eh penso di sì Penso di sì Fere O come soldato Perché anche il soldato in effetti potrebbe essere una guardia Eh mi hai lasciato un po' di dubbio Vabbè forse un soldato è più Non lo so Non lo so Controlliamo le guardie Controlliamo le guardie? Sì Ok Quindi dobbiamo cercare qualcosa di strano nel nome teoricamente Anche se io quel nome come parola L'ho un po' improvvisata Fere Io non so se noi dobbiamo andare in giro a cercare con una cosa mezzo improvvisata da me Bodyguard Eh vabbè non è che avevamo molta scelta le lettere quello più o meno formano E comunque se quelle parole ci stanno vuol dire che più o meno quello è Ok Allora io sono iniziando a guardare il nome di tutte le guardie quindi tutti i bodyguard Il problema è che sono davvero tanti Stef Eh lo so Fere Tanti tanti Lo so ci metteremo la vita E soprattutto poi cosa dovremmo notare? Ah non è la più pallida idea Eh stiamo freschi qua eh Te lo dico No no la più pallida idea Vabbè continuiamo a correre e cerchiamo Non è possibile Fere Dieci minuti a guardare nomi Allora io ti dico che non riesco più neanche a leggere bodyguard Sai come quando ripeti tipo tantissimo una parola e non riesci più a dargli un significato Non sai più perché la stai dicendo Mi è successo quello e adesso leggo bodyguard ma forse boyguard ma forse bobo non lo so più Dimmi che l'hai trovato Stef ti prego Per di più per un attimo mi è venuto un mezzo infarto perché era scomparso Come di nuovo? Sì 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 infatti non sto riuscendo a imprigionarlo perché continua a muoversi disgraziato Ok ti ho visto ti ho visto Guarda la differenza del nome Fere Guarda la differenza del nome Ah e ancora non la notavo Figuriamoci capito Eh oh non è così semplice Dopo che rimani 10 minuti a leggere solo bodyguard non capisci più niente Mi fanno male gli occhi Anche a me Fere Non so quante volte ho letto questo nome ovunque tutto il tempo Però l'abbiamo trovato Ha una U di differenza Ed è il criminale di questo video Finalmente l'abbiamo trovato È stata una roba faticosissima Che ne facciamo adesso Stef? Aspetta Fere dimmi Un ceffone te lo meriti Per avermi fatto perdere tutto sto tempo Per avermi fatto venire mal di testa te lo meriti Io direi che ce ne andiamo tanto è pieno di No però aspetta Stef Sì Mi è venuta un'idea migliore Che fai? Sei pronto? Ahà La mia chicken sword Che ho vinto l'altra volta trovando il ricercato Quindi l'ho pesto con la mia chicken sword Fere Lascia in pace la gente dai Andiamo via No dobbiamo imprigionarlo No Fere è pieno di militari È pieno di bodyguard È pieno di gente Di tutti i tipi Ma non possiamo ammelo dargli fuoco C'è anche quello del McDonald Che gli può dare un po' di chicken nuggets Siamo a posto Dovremmo essere più che sicuri Quindi lasciamolo Andiamo via perché non ne voglio più sapere Ora sono d'accordo con te Andiamo una settimana a sciare Grazie Grazie Io di cercare criminali così nascosti Non c'ho più voglia Te lo dico È stata una fatica incredibile Non ne posso più Beh ragazzi Di scelto di scelto Sceltoci un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Non perdermi gli altri video Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!